Quanto riguarda il gesto con Mario, sicuramente io sono quello che lo conosce più di tutti perché avendoci giocato nell'Inter in primavera, lui aveva appena 17 anni e io già ero lì a rimproverarlo per alcuni suoi gesti. Questo è Mario, sicuramente è un ragazzo istintivo ma allo stesso tempo è un bravo ragazzo, un buon ragazzo. In quel momento mi sono trovato lì e mi sono preso cura di lui perché sicuramente con il gesto che ha fatto poteva incorrere in iniziazioni pesanti. Sicuramente il mio è stato soltanto un gesto istintivo a prescindere da quello che lui dicesse. Purtroppo in certe occasioni Mario si lascia andare a delle sciocchezze, è stata soltanto una nota positiva che io fossi lì pronto a chiudergli la bocca. Mario non credo che sia fuori dal gruppo, lo dimostrano anche le immagini di ieri quando rideva e scherzava accanto a Di Natale che sono state immortalate poi oggi con la bandierina del calcio d'angolo. Credo che quello sia l'emblema che il gruppo è unito, che Mario è dentro il gruppo, che ci riteniamo stretto perché come ha dimostrato contro l'Irlanda se mette in campo quel sorriso, quella voglia di giocare a calcio senza pensare ad altro è un giocatore che può fare la differenza.